Non è che qualcuno te la porta a casa, ti busta e ti dico, ecco 30.000 euro, bene, arrivederci e grazie. No, bisogna sempre agire quando si fa qualcosa, bisogna sempre agire quando vogliamo mettere in atto un comportamento attivo, come dico sempre nei miei video. Oggi vediamo una cosa interessante, oggi parliamo con il dottor Centurioni, il quale ci illustrerà quali sono i finanziamenti agevolati, i contributi agevolati che ci sono per le imprese. Parleremo anche di imprese in essere o nuove imprese, parleremo di finanziamenti per l'import, export e per la digitalizzazione, e faremo degli esempi e vediamo anche come si compila poi una pratica di finanziamento e per l'accesso appunto a questi contributi per la digitalizzazione. Io sono Carlo Alberto Micheli, invocato fiscalista, dottore commercialista e fondatore di meccamping.it, se ne l'ho già fatto, ti chiedo e ti invito ad iscriverti al mio canale per rimanere sempre aggiornato su tutte le più importanti informazioni necessarie per te e la tua azienda. È il momento quindi di introdurre il dottor Fabio Centurioni. Ciao Fabio, come stai? Molto bene, grazie, benvenuto, benvenuti a tutti a questa diretta live grandiosa sui bandi di agevolazione. Oggi le aspettative sono alte, perché abbiamo detto, ve l'hai detto tu, che ci sono 30.000 euro pronti che non aspettano altro che essere presi. Ma presi da chi queste 30.000 euro a fondo perduto o agevolato? Com'è? Spiegasci a voi. Allora, da cosa vogliamo partire? Perché ci sono sia i nuovi bandi per le nuove imprese, sia quelli per le imprese già avviate. Partiamo dalle imprese già avviate. Ok, prese già avviate, perfetto. Allora, digitalizzazione è la parola chiave. I nuovi fondi europei, lo ha specificato bene la comunità europea, danno i soldi ai vari paesi europei, tra cui all'Italia. L'Italia poi li dà alle singole regioni che fanno i bandi. Quindi, questi bandi, per poter essere vinti e avere un punteggio elevato, devono contenere un investimento in innovazione digitale. Faccio qualche esempio. L'azienda che compra un macchinario, partiamo dalle aziende manifatturiere, ma poi vale la stessa regola anche per le aziende commerciali. Quindi, chi è solo commerciante, un piccolo artigiano che lavora in legno, che lavora in ferro, o un'industria, o un commercio all'ingrosso, fa un investimento, di solito compra i muletti per spostare la merce in magazzino, compra i camion gru, compra le attrezzature, compra i pantografi, però i bandi dicono, vuoi un punteggio elevato e avere più probabilità di andare alto in graduatoria e quindi più probabilità di prendere il contributo? Aggiungi anche un investimento in digitalizzazione, vuol dire software, nuovo gestionale, CRM, gestione dei clienti, e-commerce, piattaforme, app, le app fondamentali ragazzi, le app, bisogna installare le app per vincere la concorrenza di tutto quello che c'è fuori nella digitalizzazione. Le app sono il migliore strumento per fidelizzare il cliente. Quindi un'impresa già avviata, poi io cerco di riassumere, controlla attraverso la propria regione di appartenenza, dove è la sede legale, la presenza di questi bandi, e compila una domanda per degli investimenti, i quali al loro interno hanno una componente di innovazione tecnologica e di digitalizzazione, secondo quello che hai detto tu. Esatto. Ok, poi io intanto volevo dire che in descrizione al video abbiamo preparato un link apposito per poter accedere a maggiori informazioni, quindi siccome so già che poi dopo mi chiederete maggiori informazioni, in descrizione al video trovate tutto. Scusa se ti ho interrotto, vuolevi aggiungere qualcosa sulle imprese già in essere? Allora, le imprese in essere a priorità per avere il punteggio alto devono sempre fare questa digitalizzazione, investimenti in digitalizzazione, ma ti dico di più perché facendo in questo modo prendono due piccioni con una fava, cioè in sostanza non solo possono accedere ai contributi per acquistare gli altri macchinari, ma esempio pratico, sono un falegname, devo comprare un pantografo, il pantografo 4.0 interconnesso col gestionale di fabbrica, devo fare la formazione ai miei dipendenti, quelli che stanno in amministrazione per gestire il flusso dei dati, e quello che sta in produzione, caporeparto a tutti gli operai che girano intorno a quel macchinario, per istruirlo, per fargli capire come ottimizzarlo, renderlo migliore, essere più efficiente, gestire la commessa al doppio della velocità. Questa formazione, queste ore degli operai, degli dipendenti, possono essere recuperate al 50% in credito di imposta, si chiama formazione 4.0. Sai Carlo che il 95% delle imprese che abbiamo intervistato in questi primi due mesi del 2021 non sapeva neanche che c'era questo condicato sullo stipendio per recuperare una parte dello stipendio dei loro dipendenti? Quindi fondi che arrivano perché stiamo facendo degli investimenti e fondi che arrivano in credito di imposta per spese che già abbiamo sostenuto e che regolarmente stiamo sostenendo. E invece per le nuove imprese si inizia, abbiamo nuovi imprenditori, danno avvio ad una nuova impresa, ad un nuovo ramo d'azienda, che cosa c'è in ballo? Oh, lì c'è tanto perché ci sono tutti i nuovi bandi che sono partiti quest'anno dove, ad esempio, Invitaglia ha rinnovato il tipo di self-employment. Chi deve aprire per la prima volta, facciamo l'esempio pratico di chi deve aprire una nuova partita IVA, no? Mi riferisco a tanti giovani o a tante donne che devono aprire la partita IVA, hanno fatto tanto lavoro part-time, lo possono fare, tu mi insegni, fino a 5.000 euro senza dover aprire la partita IVA, ma quando superano i 5.000 euro devono aprire la partita IVA. E lì c'è un'agevolazione, Carlo, dove voi siete molto bravi a suggerire il regime forfettario, il regime fiscale migliore, giusto? Certo. Fatto questo, però, prima di aprire la partita IVA, suggerisco sempre di controllare se ci sono dei bandi aperti, e te ne dico uno, non so se posso fare share video. Penso di sì. Però faccio una prova, eh? Tac, velocissimo così. Dimmi se mi vedi. Allora, eccolo qui, vai. Vediamo benissimo. Bene, qui dentro c'è tutta la cartina d'Italia. Sotto il link, infatti, abbiamo dato a tutti quelli che partecipano a questa live la possibilità di cliccare sulla cartina d'Italia ogni regione, a seconda della regione a cui volete. cercate, per esempio, il bando nuove imprese a tasso zero, questo qui, per gli incentivi femminili e maschili, ma per progetti ancora più piccolini, cercate self-employment. Self-employment è quello, ne avevo già parlato, io sui miei canali YouTube, è quello nuovo di Invitalia. Eh, carino, questo qui è molto aperto. Questo qui, c'è questa immagine di questa ragazza, lo ritrovate facilmente. che cosa hanno ampliato rispetto al 2020? Guarda, ve lo dico subito. Mentre fino al 2020 potevano partecipare solo i giovani fino a 29 anni disoccupati, adesso possono partecipare tutte le donne senza limiti di età e possono partecipare anche i maschi sopra i 29 anni, purché hanno presentato almeno da 12 mesi, sono disoccupati, scritti alle liste di disoccupazione, suggerimento, chi non l'ha fatto ancora, disoccupato, andate subito a iscriversi alle liste di disoccupazione del centro per l'impiego, dovete andare al job, al centro per l'impiego, iscrivervi disoccupati, perché se maturati 12 mesi potete fare questa richiesta. E le agevolazioni sono interessanti, perché si va da un minimo di 5.000 euro a 50.000 euro, è un prestito da restituire, è vero, però a tasso 0% e in più da restituire la prima rata dopo 6 mesi dall'inizio dell'attività e in 7 anni, quindi senza interessi, in 7 anni, quindi rata ridotta di 300 euro al mese, fattibilissima, se si richiede tra i 25 e i 35.000 euro, di solito questo è la fascia di richiesta più comune, tra i 25 e i 35.000 euro, il 90% delle attività riescono ad aprire, comprare le attrezzature, fare il sito web, ci puoi finanziare anche l'e-commerce, il sito e-commerce, la app, alcune delle merci per fare iniziare l'attività e quindi direi che è molto vantaggioso, no Carlo? Esatto, esattamente. Bene, poi invece se vogliamo andare a vedere, ah dimmi tu, se vogliamo andare avanti. No, vai pure, vai pure che vai benissimo. C'è questo sempre per le nuove imprese, sempre a tasso 0, che fra poco gli aggiungeranno un contributo del 20% a fondo perduto, sempre per le donne e per gli uomini, questo, mentre adesso è al 75%, queste qui sono nuove imprese, il finanziamento a tasso 0 per le nuove imprese. Bravissimo, per importi superiori a 35.000 euro, qui qualcuno dice io devo investire io 35.000 euro, veramente non so cosa fare, me ne sono troppo pochi, allora voglio chiedere un incentivo superiore, oltre i 50.000, oltre i 100.000, oltre i 200.000, per esempio stiamo aprendo a dei centri estetici, dove devono comprare 200.000 euro di macchinari, stiamo aprendo delle falegnamerie dove devono comprare 150.000 euro di macchinari, solo per fare due esempi. In questo caso il vantaggio delle donne è che non hanno alcun limite di età, mentre per gli uomini c'è il limite di età di 36 anni, però vi voglio anticipare questa grande novità, che anziché il 75% si passa tra poche settimane al 90% e in più c'è un 20% a fondo perduto che non dovrà essere restituito, quindi questa è una bella novità, state sintonizzati perché tra poche settimane questa misura sarà stravolta e sarà aggiornata. Hanno già approvato il decreto a dicembre del 2020, però lo devono convertire, manca una circolare applicativa, la solita legge all'italiana che fanno sempre il ritardo. Vabbè, in Italia è classico che si faccia prima il provvedimento, oppure anzi addirittura ora fanno il comunicato stampo, comunicato stampo del Ministero che dice che arriverà un provvedimento e poi dopo il provvedimento arriverà in così, poi dopo il provvedimento il decreto attuativo. Che bello, vero? Fantastico, siamo veramente in una situazione di questo tipo. Allora cerchiamo, ora abbiamo fatto vedere una panoramica di quello che voi potete trovare tra le varie informazioni e soprattutto capire, e la cosa fondamentale qual è? È capire che queste cose ci sono, ma non dovete sempre aspettare, eh ma a me il commercialista non me l'ha detto o perché tu commercialista non me l'hai detto? Ci sono queste cose, la finanza acevolata è un compito primario dell'imprenditore che può o affidarsi a un consulente di finanza acevolata oppure autodocumentarsi, trovare, individuare quello che può fare al caso suo, l'importante, l'ha detto Fabio, è orientarsi verso la digitalizzazione che è un po' la chiave maestra di tutto questo e individuato il bando decidere di partecipare a quel punto insieme al proprio consulente e stilare la lista di documenti necessari per la corretta compilazione. Ma se volessimo andare un pochino più nel concreto, Fabio, cerchiamo di fare tipo tre esempi pratici e quando si parla di tre esempi pratici si parla di un libro professionista, di un artigiano oppure di un commerciante. In questa fase storica quali sono le opportunità per il libro professionista? Il libro professionista che deve ancora aprire la partita IVA deve andare lì in quel self-employment in Italia o i vari bandi regionali. Ricordo che al sud ci sono otto regioni che danno anche un contributo del 50% a fondo perduto e quindi sono più fortunati dall'Abruzzo in giù, Abruzzo-Campania, Puglia, Molise, Calabria, Sicilia e Sardegna. Invece dal centro-nord in su c'è self-employment a tasso zero che è perfetto. Non c'è il fondo perduto però un tasso zero è fantastico. Quindi i professionisti che devono aprire la partita IVA mi raccomando fate quella richiesta. Invece un professionista che ha già, perché non stiamo parlando, rispondo alla domanda di Cristian, non stiamo parlando solo di nuove imprese. Abbiamo fatto un discrimine all'inizio, abbiamo detto sia per le nuove imprese che per le imprese già in attività. Un professionista già in attività, che può essere un social media manager, un avvocato, un commercialista, un ingegnere, un architetto, un consulente aziendale. Ha la possibilità di accedere a qualcosa di agevolato? Se sì, in quali termini? Sì, fantastico. Mi è proprio lanciato la pala al balzo. Condivido perché gli faccio vedere una cosa che tutti i professionisti dovrebbero fare. dimmi quando si vede. Allora, qua avete la vostra cartina d'Italia. Andate ad aprire, faccio l'esempio, sono nel Lazio, ad esempio. Aprite questo bando, credito di imposta formazione 4.0. Per i professionisti è l'asso di briscola, perché tutti i professionisti devono, devono, vedi i dettagli, devono dare qualche tipo di consulenza o formazione alle aziende più grosse, più strutturate, per cui danno queste consulenze. Questo bando rimborsa le aziende a cui voi, professionisti, vendete le consulenze e i servizi fino a 300.000 euro di formazione, cioè la formazione che voi fate in azienda, la consulenza, che poi a cascata l'azienda la deve trasferire agli impiegati amministrativi o alle maestranze, ai responsabili di produzione. Per farvi un esempio di come funziona, qua sotto ho messo un bottoncino, test gratuito, formazione 4.0, così vi rendete conto qual è il vostro potenziale. Ci cliccate sopra, insieme all'amministratore dell'azienda con cui volete prendere la commessa, tu professionista gli devi far fare questo test perché qui andiamo a chiedergli, vedete, quali di questi interventi prevedi di sostenere? La maggior parte dei professionisti, Carlo, vende questo tipo di consulenza o programmi di digital marketing, volete aumentare le vendite o integrazione, automazione dello sviluppo digitale dei processi aziendali. Queste due voci includono quasi tutto, tutto quello che è l'azienda, manifatturiera, l'ingrosso, il commerciante, che ha diversi dipendenti e ha bisogno di consulenti e professionisti che gli devono aiutare nella digitalizzazione dei processi aziendali, rientrano in queste due voci. Poi, se durante la conversazione che avete con l'imprenditore vedete che possono rientrare anche in altre voci, vedete quante ce ne sono, c'è chi fa i prototipi e ci sono molti ingegneri, geometri, architetti che li aiutano a fare i prototipi dei nuovi prodotti, nuova gamma di prodotti, ci sono quelli che interfacciano le macchine, gli ingegneri, ci sono quelli che fanno la manifattura additiva, cioè la stampa tridimensionale, vedete quante voci possono selezionare. E poi, mano a mano, vanno avanti con questo test e noi riusciamo a capire se hanno i requisiti per poter partecipare a questo bando dove gli rimborsi il 50% non solo delle spese di consulenza del professionista, ma anche gli rimborsi una parte della formazione interna che l'azienda deve fare all'interno dei suoi operai, dei suoi dipendenti, dopo che il professionista è passato, gli ha venduto la consulenza e la devono mandare a cascata a tutti i reparti della fabbrica o dell'azienda. Interessante questo, quindi c'è già tutto predisposto. Invece cambiamo argomento, cambiamo argomento, parliamo di commercianti, sia che facciano commercio digitale piuttosto che commercio, lo levo io, è lo schermo, non è un problema, eccoci che... sia che facciano commercio digitale piuttosto che commercio tradizionale, oppure come io suggerisco a tutti quelli che seguono i miei canali, fate organicità fra il commercio tradizionale del commercio digitale, nessuno può prescindere dall'altro e ha del bene potenziato. In questo ambito, per i piccoli commercianti, per le PMI, qual è? Che cosa si consiglia? Qual è il sostegno che viene dato maggiormente? Carlo, per i piccoli commercianti ci sono piccoli bandi, perché devono accedere ai bandi sulla digitalizzazione, normalmente loro devono aggiornare il sito web, però devono mettere il sito e-commerce, il carrellino della spesa, devono fare una spesa in più, non possono fare il rinnovo del sito web vetrina. No, il sito web vetrina ormai è come il bigliettino da visita, cioè se non lo spingi funziona poco, cioè il sito web deve essere un luogo dove una volta che è atterrato l'utente possa interagire e arrivare ad una procedura d'acquisto possibilmente automatizzata, meglio per voi, meglio per lui. Quindi su questo... Però lo sai che più della metà delle imprese che intervistiamo, che ci chiamano, ci dicono sì sì, io devo rinnovare il sito web, però non avevo pensato di fare l'e-commerce, di vendere i miei prodotti online, i miei servizi. In realtà è così, cioè i contributi ti li danno se fai quell'investimento ulteriore. Altrimenti non se no sono solamente sussidi. Prima di passare alla schermata, volevo solamente rispondere questo. Se è solo per cittadini italiani questi bandi oppure no, cioè agli stranieri. Va benissimo anche agli stranieri, purché non è richiesta la cittadinanza italiana. Esatto, è richiesto per messo di soggiorno a residenza. La residenza? Normalmente da almeno sei mesi, quindi... Ok, se vuoi far vedere a schermo il bando per il commercio, ci siamo, eh? Mettilo pure, vai. Ok. Questi, molti nostri clienti più fidelizzati, gli diamo una cosa, una marcia in più, gli diamo l'accesso a una sessione dei nostri band, perché questi sono veramente difficili. Carlo, purtroppo siamo in Italia. Ci sono 60 province d'Italia e camere di commercio che pubblicano bandi da 10.000 euro, quelli piccolini che servono ai commercianti, dove danno contributi almeno del 50% per digitalizzare, fare questi siti commerce, digitalizzare il processo aziendale, comprare software. Purtroppo sono sfuggenti questi bandi, sono tanti, fitti, veloci, sfuggenti. E allora noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato questa pagina che si autoaggiorna, ma è un lavoro immane, perché dobbiamo andare ogni volta a spunciare 60 province d'Italia, 60 camere di commercio, indovinare quando fanno uscire i bandi. Vedi qua, prossima apertura, Cosenza, questo apre domani, vedi? 4 di marzo. In Calabria. Sì, sì, questo qui in Toscana è già aperto e scade il 30 aprile, ma adesso ce ne abbiamo un altro che apre a Vicenza e lo stiamo per pubblicare, fra dieci giorni apre. Quindi il punto di forza qui è capire con qualche giorno di anticipo quando escono i bandi. Vedete qua quanti ne sono, abbiamo guardato qui. Ma i bandi vincenze, vale la regola di chi prima arriva, prima allontano. Sì, purtroppo sì, proprio così. Prima uno presenta la domanda, è veloce, più che altro che la presenti completa, altrimenti rischi di finire in coda. Sì, vedi per farti un esempio Campania, Lazio, vedi questi scadevano tutto, questo addirittura il 19 di gennaio, molti ne scadevano, sono scaduti il 31 di dicembre, ma molti anche in Lombardia e Brescia sono scaduti il 18 di gennaio. Quindi chi ci segue molto costantemente riesce a intercettarli questi. Purtroppo sono quelli piccolini che è difficile prevedere perché ogni Camera di Commercio, ogni piccolo ente pubblico, siccome sono piccolini, pensano che possono decidere loro le date. Non c'è una regia nazionale che dice, oh, il 3 di aprile pubblicheremo questo bando. No, ognuno fa la sua data, vedi che roba. Uno lo fa scadere a ottobre, uno a gennaio, uno a dicembre, il prossimo al 4 di marzo, quello di Vicenza che aprirà il 13 di marzo, questo della Toscana, capito? Sono tutte date, sono fuori di testa e noi ci tocca fare, io andiamo a pagare un ragazzo, una persona, un e mezzo perché un altro la deve fare part time, per cercare di intercettare ogni volta queste 60 province questi bandi piccolini perché sono quelli poi che aiutano molto le imprese. Allora noi dove possiamo, riusciamo a mandare via la domanda, la prepariamo prima che la pubblichi, no? Così quando apre il 4 marzo alle ore 9 di solito, noi siamo i primi a prepararle, quindi siamo in alto in classifica prima che finiscono le risorse perché di solito mettono 200, 300 mila euro, 400 mila euro per cui soddisfano solamente le prime 50 domande, le prime 100 domande, capito? Quelli che arrivano dopo la centesima domanda rimangono un po' col cerino in mano. Ti volevo chiedere l'ultima cosa, abbiamo dato veramente tantissimo valore e tantissima informazione. Ci fai un esempio di come si compila invece questo web form per arrivare al contributo sulla digitalizzazione imprese che è fino a 30 mila euro? Come funziona? Ah sì, guarda, quello da 30 mila in particolare... Faccio vedere come si compila, sono tutti curiosi, sono curioso anche io. Allora, guarda, ti faccio vedere un'altra cosa che non ne abbiamo parlato perché c'è questo bando per l'export, questo è interessante Carlo, questo qui apre il 9 di marzo ed è per le aziende che vogliono esportare all'estero, danno fino a 30 mila euro di incentivi, di contributi, quindi cosa succede? Il ministero ti dice, ti do dei contributi per pagare un export manager temporaneo per sei mesi, lo paghi tu per sei mesi 30 mila euro, io ti rimborso il 66%, purché ti faccia una ricerca in quale paese vuoi esportare i tuoi prodotti, ti crea l'e-commerce, vedi che roba? Praticamente ti trova anche il settore fieristico, la fiera a cui devi partecipare per poter intercettare il maggior numero di clienti, si chiamano voucher internazionalizzazione, i TEM sono i temporari export manager, quindi che cosa finanzia? Vedete, 20 mila euro le micro e piccole imprese per questa consulenza dell'export manager, perché sono per piccole e medie imprese che non hanno la forza finanziaria di andare all'estero da soli, perché è costoso andare fuori a prenotare le fiere, Carlo, la maggior parte delle imprese non ce la fa, e quindi cosa fa il ministero? Ti dice, guarda, ti diamo noi 20 mila euro su 30 mila, poi se mi dimostri che hai fatto un incremento del volume d'affari del 15% all'estero, ti do un contributo aggiuntivo di 10 mila, figata no? E quindi si arriva a questi 30 mila, che erano il video. Esatto, esatto. Poi dopo noi abbiamo messo il link... Siamo stati di parola. Poi abbiamo messo... abbiamo dei link interni per compilare la domanda. Vediamo come si compila una domanda prima di salutare i nostri telespettatori. Ok. Allora, ti faccio vedere proprio dentro... Faccio come in televisione, abbiamo 4 minuti e 30. Presenta la domanda. Guarda, veloce. Ok. Esempio tipico. Si fa qui per presentare la domanda. E i documenti da scaricare sono questi. C'è un elenco di documentazione. Esempio. Progetto di internazionalizzazione. Guardiamo, apriamo questo. Andiamo un po'. Ecco qua. Si presenta così, si mette il titolo del progetto, importo del progetto, cioè quanto vuoi spendere, quanto vuoi investire sul temporario export. Si compila online la domanda, non va stampato. È online con firma digitale o speed? Normalmente sì. Alcune volte ti fanno scaricare il PDF, lo compili qui e poi dopo lo carichi nella piattaforma e fai la firma con lo speed. Adesso molte volte con lo speed. Alcuni bandi sono semplici, alcuni sono un pochino complessi. Qui ti danno lo spazio, devi compilare e dire quali sono le caratteristiche del progetto di internazionalizzazione. Cioè in quale paese devi andare, cosa devi fare. Qui lo devi compilare insieme all'export manager o al consulente che ti aiuta. Perché devi descrivere gli obiettivi, le finalità del bando. Cioè devi dire a cosa ti serve. Ok? Poi le finalità, esatto. In questo caso non è un bando molto complesso, quindi si può fare in autonomia, le aziende spesso lo fanno in autonomia. Ci chiedono l'aiuto solo se vedono che è particolarmente complesso. Comunque, aspetta che torniamo noi. Cioè abbiamo visto quindi come effettivamente è possibile. Qual è? Cioè alla fine secondo me la cosa più difficile non è compilare il bando. Quello poi si fa col proprio consulente, col commercialista, con l'esperto di finanza c'è un'altra, secondo me la cosa più difficile è individuare il bando che fa al caso vostro. Ecco, per quello che poi ho deciso di invitare Fabio, perché altrimenti vi dicevo ragazzi andate sul sito delle regioni, trovate i bandi, fatemi sapere se vi interessa, se mai mi chiamate. Invece no. Cioè quello che sta dietro non è trovare quel bando, ma è individuare quello giusto per te, capire quali sono gli elementi fondamentali per andare a presentare la domanda e poi farlo nei giusti tempi. Esatto. Se vuoi concludere indicando quali sono i consigli eccetera, a te la parola. Sì, diamo dei consigli anche grossi. Ti faccio l'esempio pratico di un export manager che ci ha contattato per questo bando per l'esportazione. Lui era convinto che non poteva cedere, perché, questa è una figata bella Carlo, perché adesso il ministero ti dice se vuoi aiutare un'azienda, tu sei un export manager, sei un professionista che ha delle caratteristiche, delle qualità per poter aiutare un'azienda, vuoi fare una consulenza, bene, però mi dimostri che hai avuto almeno tre casi nel passato che hai aiutato un'azienda e gli hai fatto ottenere dei risultati, ma non gli basta più. Questo export manager mi diceva, io sono vent'anni che faccio l'export manager, ho accompagnato centinaia di aziende all'estero, ma oggi il ministero mi dice che non posso fare l'export manager per questo bando, non mi può nominare export manager per questo bando perché non ho la certificazione o di Google Skills, hai visto che lì nelle varie opzioni c'era saper fare un e-commerce e sponsorizzarlo anche all'estero, quindi dice io non ho le Google Skills, non ho fatto il Facebook Blueprint, il corso certificato di Facebook per capire come si postano e si fa pubblicità su Facebook, non ho fatto i corsi di digitalizzazione, il ministero ti dice che almeno un corso sulla digitalizzazione la devi saper fare, in questo caso noi gli abbiamo consigliato che lui può operare sotto il cappello di un'azienda che ha già queste certificazioni, si fa nominare export manager e ha le qualifiche per farlo, quindi spesso noi interveniamo, gli diamo dei consigli perché a volte non sanno che hanno i requisiti per partecipare, glieli controlliamo e gli diamo i consigli giusti. Allora stavo rispondendo a un ragazzo che mi diceva di come si chiama il sito, io ho detto in descrizione al video trovate tutte le informazioni per poter accedere e ora io vi sto anche mandando qui nella chat questo che è l'indirizzo per poter accedere, così avete tutto, sia in chat che in descrizione al video, basta che ci cliccate e trovate tutte le informazioni. Io davvero Fabio ti ringrazio di cuore, Fabio non è la prima volta che vieni qui sul mio canale, abbiamo già fatto diversi contenuti insieme, dei webinar insieme, li potete trovare sul mio canale YouTube e quindi ti ringrazio di cuore per essere stato qui con me e ci vediamo al prossimo video, al prossimo bando. Carlo io ringrazio te, è sempre un professionista squisito come al solito e poi sì, ci vediamo al prossimo video, saluto tutto il pubblico che ci sta seguendo. Ciao ragazzi, buona giornata. A presto, ciao.